Apriamo la pagina dedicata al coronavirus contagi stabili e nessun decesso in Puglia. Intanto l'Associazione dei Presidi critica la soluzione che si va delineando sui trasporti per alcune province. Sentiamo. Sono 178 i nuovi positivi al coronavirus registrati nel bollettino epidemiologico regionale pugliese. Si tratta di 61 casi in provincia di Lecce, 34 nell'Abat, 33 in provincia di Bari, 24 nel Foggiano, 17 in provincia di Taranto, 8 nel Brindisino e un caso di residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi e prosegue la campagna vaccinale. Sono oltre 5 milioni e 525 mila le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia. L'ASL di Bari comunica che in questa fase è particolarmente forte l'adesione dei giovanissimi tra i 12 e i 19 anni, con 125 mila somministrazioni complessive e una copertura vaccinale del 79% con prima dose e del 49% con ciclo completo. Nell'Abat invece il 72% dei cittadini tra i 12 e i 19 anni ha già ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 29% ha completato il ciclo vaccinale. Nel Foggiano ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'81,6% delle persone di età superiore ai 12 anni. Ha concluso l'intero ciclo il 67,1% degli over 12. E nei centri attivi della provincia di Brindisi, a fine giornata, si può accedere senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi. Ma per avere la certezza di giorno e orario del vaccino è possibile prenotare tramite CUP. Infine, nell'ASL di Lecce, dal lunedì 13 settembre, si accede alla vaccinazione senza prenotazione. Intanto la ripartenza scolastica si avvicina e l'Associazione Nazionale Presidi, in una nota a firma del presidente regionale Roberto Romito, critica la soluzione che si va delineando sui trasporti per alcune province, come Bari e Taranto. Ai tavoli prefettizi sembra prevalere la pressione delle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale per imporre la soluzione di minimo sforzo, consistente in un potenziamento delle corse scolastiche mediante il raddoppio di alcune di esse, utilizzando gli stessi mezzi, con orario sfalsato fra prima e seconda corsa, sostiene Romito. La scuola si adegui dunque e con essa gli studenti e le loro famiglie che si dovranno rassegnare a sperimentare due differenti turni, conclude il presidente regionale.